Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Luigi Famiglietti candidato al Senato Dixit. Nel mio collegio Forza Italia candido un calabrese che fino ad ora ho visto solo sui manifesti e che, nelle rare occasioni in cui si è fatto vedere, ha dimostrato di non conoscere nulla dell'Irpinia. Cosa dire? Il calabrese ha l'attenuante generica di non conoscere nulla dell'Irpinia perché appunto è calabrese. Famiglietti invece conosce tutto dell'Irpinia perché appunto è irpino. Ma allora come si spiega che sapendo tutto dell'Irpinia Famiglietti non ha detto mezza parola sullo scandalo Aias? Forse non vuole dispiacere a qualcuno? Grazie a tutti.